amici di calciomaregato.com ben tornati dal potimento con i fanta consigli questa è la nostra top 11 di giornata in porta samirandano vince con l'inter impegnato torino in difesa danilo che ha riposato in le champions perché squalificato con la juve impegnata a cagliari gli altri due sono romero atalanta spezia e teo hernandez secondo noi recupererà nella sfida contro il napoli di domenica sera centrocampo con una sorpresa salema kers milan napoli il secondo nome pasalic che non dovrebbe partire titolare ma secondo noi alla fine casperini può cambiare tutto gli altri due nomi sono giuricici fa solo verona e da lazio con luis alberto che è impegnato con il crotone nel match di venerdì alle 15 che apre la giornata di serie a e poi gli attaccanti lukaku non lo togliamo assolutamente mai leao milano napoli e nel terzo nome quello di correa ci auguriamo possa portare bonus l'attaccante della lazio in panchina i nomi li vedete accanto a ogni ruolo speriamo di vincere lukaku non lo togliamo